ciao ragazzi e bentornati sul canale io sono gerus e voi siete nel mio piccolo spazio sul web dove parliamo di passioni oggi però ci concediamo un momento per analizzare un film un po diverso dal solito un po più maturo un po più serio visto che il film secondo me merita o forse richiede quel tipo di approccio stiamo parlando dell'ultimo lavoro di garrone io capitano un film che va a trattare la tematica dell'immigrazione e che per questo secondo me e per come lo fa merita questo tipo di trattamento ho deciso di strutturare questo video in tre blocchi principali il primo dei quali è il classico blocco di analisi della pellicola di cosa ci voglia dire di cosa dica e di come lo faccia questo per me però il blocco ve lo dico da subito meno importante ma magari per alcuni di voi non sarà così anzi magari sarà proprio quello che vi interessa capire di questo film secondo il terzo blocco sono dei blocchi un po più mentali quindi dei blocchi che cercano un pochino di mettere in luce quello che io reputo importante del perché si deve parlare di questo film e del perché sia giusto dargli la nostra attenzione e il nostro supporto tra l'altro cosa che sta già in buona parte accadendo in realtà il terzo blocco sarà quello in cui andremo un po a parlare del discorso che sottende questo film del valore che potrebbe aggiungere quasi in chiave umanistica bando le ciance non ce la tiriamo troppo andiamo con il primo blocco partiamo dall'analisi di questo film mi sento di dire da subito che non è uno dei film più riusciti di garrone ma resta un ottimo film una pellicola sicuramente valida proprio in termini di fattura della pellicola è un racconto questo io capitano che ci porta all'interno di un'odissea a tutti gli effetti potremmo dire di due ragazzi due cugini che dal senegal partono per raggiungere l'europa e lo fanno per inseguire quelli che sono i loro sogni diventare dei cantanti magari avere una vita giata magari poter aiutare la famiglia con i ricavati del loro lavoro ovviamente però lo sappiamo bene neanche solo guardando telegiornali il viaggio non sarà proprio quello che loro si aspettano o quello che non vogliono aspettarsi e si rifiutano quasi di credere sia possibile una vera e propria discesa nella ben più complessa realtà dell'impresa il film quindi ci parlerà di speranza di sogni di brutalità e di tutto ciò che di orrendo succede quando si affronta un viaggio del genere quindi l'arido deserto da una parte gli orrori delle carceri libiche e ultimo lo sconfinato mare per chiudersi tra l'altro con dei fotogrammi che sono incredibili ed ecco gli elementi che sicuramente di questo film a livello tecnico vanno premiati sono proprio legati secondo me ai due ragazzi che interpretano in questa pellicola i due protagonisti e al vero e proprio protagonista che sarà uno dei due su cui maggiormente incederemo su cui maggiormente andremo a sviscerare la storia e gli eventi sei due lui lo possiamo inquadrare come il vero focus principale del film una interpretazione attoriale incredibile e tutto è supportato da una direzione una regione una fotografia di ottimo livello ma il vero punto di forza di questa pellicola è secondo me il suo equilibrio nel riuscire a trattare delle tematiche estremamente difficili riuscendo quindi sia a non edulcorare troppo la pellicola sia a non cadere però nell'estremo opposto magari finendo a fare dell'esploitation sulla violenza su tutto ciò che ci possiamo aspettare da un film del genere perché sarebbe stato il modo più facile di fare click visualizzazioni diremmo nel linguaggio del web quindi senza sfruttare la questione tutto questo riesce a consegnarci un film che vive di un equilibrio estremamente delicato non banale e scontato un film che cerca quindi di farci vivere una realtà concreta attraverso un racconto che si si sofferma solo su due cugini e sulle vicende che ruotano attorno alla loro di impresa ma che tutto attorno a loro ci fa vedere come si dipanino molte altre vite che appunto vivono e sperano magari ma che purtroppo anche muoiono un film che quindi ci fa sentire sulla nostra pelle questo viaggio ce lo fa vivere con il cuore riuscendo a raggiungerci ad emozionarci ad accompagnarci in quest'odissea appunto mi sento di dire però che si percepisce a tratti un magari alleggerimento eccessivo di alcuni frangenti a fronte di altri in cui invece magari si approfondisce un po' troppo dei momenti di fretta alle volte dei momenti di calma che danno una pellicola un po' disomogenea da questo punto di vista magari e questo è una mia ipotesi un film che ha avuto tagli eccessivo che per una volta all'interno dell'industria cinematografica potremmo dire avrebbe avuto un beneficio da un po' più di minutaggio magari per permettere un approccio più omogeneo e compatto alla pellicola o che quantomeno ecco avrebbe giovato di un lavoro in tal senso cercando di darci una pellicola che si muova meno a singhiozzi concentrandosi troppo alle volte poco in altri momenti e cose del genere quindi riuscire a raggiungere lo stesso scopo ma magari lavorare in modo più efficiente sul pathos che avrebbe reso tutta la portata del racconto ancora più alta ultima nota a margine dal punto di vista tecnico che ho apprezzato è la scelta di realizzare tutta la pellicola in lingua originale così da farci vivere l'esperienza più alla maniera di un docu film che di un film vero e proprio facendocela sentire sulla nostra pelle però tutto questo come detto rappresenta per me la parte meno importante di questo video di analisi perché è un bel film punto andatelo a vedere ma non è per questo non è per la qualità ecco della pellicola che dovete andare a vederlo perché se c'è una cosa che le storie da sempre fanno è quella di aiutarci a mettere in luce a chiarire intimamente e soprattutto a farci sentire parte di una storia di qualcosa che un regista vuole raccontare dei problemi che vuole mostrare delle emozioni che vuole trasmetterci ecco questo film è importante semplicemente per la scelta di parlare di questa questione ed è questo il secondo blocco il cuore del film la scelta di farci vivere attraverso i nostri filtri e farci capire davvero qualcosa una scelta che in un periodo storico come questo in cui siamo anestetizzati dall'arrivo ogni giorno di centinaia di migranti nelle nostre terre ecco che si propone di fare qualcosa che cerca di ricordarci proprio attraverso un'esperienza condivisa che tutte queste persone non sono solo numeri ma sono semplicemente vite vite che troppo spesso vanno sprecate e distrutte vite che provano semplicemente magari a mettere tutto ciò che hanno in gioco magari anche solo per inseguire un sogno perché anche questa è una scelta molto coraggiosa non ci viene nel fatto vedere qualcuno che parte per una guerra per una necessità che vediamo come inevitabile ma parte semplicemente perché vuole realizzare i propri sogni vuole provare a perseguirli ed è proprio qui che mi ricollego a quello che per me è invece il terzo punto il cuore di questo film è un cuore un po più filosofico un cuore più utopico se vorrete un cuore più umano nel senso più alto del termine ossia la possibilità di farci forse intuire o riflettere anche solo per qualche istante su quanto siano futili e sciocchi gli limiti che come società abbiamo deciso di impostare e quanto tutto questo costringa persone a viaggi davvero disperati semplicemente perché abbiamo definito che ci sono dei confini che ci sono degli stati abbiamo scelto di voler approcciare al concetto di umanità non come qualcosa di unita all'interno di un unico pianeta che ruota in un'oscurità infinita ma abbiamo altresì preso la direzione delle frazioni del frazionamento del dividerci in fazioni in culti in religioni in stati in lotta costante tra loro per quel poco di risorse che si possono prendere su questa terra anche solo per la semplicità di voler gestire i nostri problemi nel nostro piccolo senza curarci di quelle che sono tutte le problematiche che non percepiamo come direttamente limitrofe e collegate è lungi da me dire che questo fare un'alternativa a questa società sia un discorso facile o da affrontare così all'acqua di rose dicendo dovremmo essere tutti amici prenderci per mani e cantare kumbaya perché lo so bene che stiamo parlando di problemi complessi che non possono avere soluzioni semplici punto questa è una grande frase che tutti dovremmo sempre cercare di ricordarci ma il punto qual è che un film del genere può riuscire anche solo a conseguire l'obiettivo di ricordarci che come umanità magari potremmo puntare al meglio senza riuscire a raggiungerlo ma magari migliorando un po la situazione globale e lo fa ricordandoci una cosa ricordandoci come l'altro potrebbe semplicemente essere un riflesso distorto e sfigato di noi stessi nati in un posto diverso con delle differenti condizioni di vita e conseguentemente una serie di problematiche di scelte che si diparano e vanno in direzioni diverse perché è ovvio che quando parliamo anche solo dei sogni che vogliamo perseguire per noi europei sia tutto estremamente più facile io posso in ogni momento prendere un aereo andare in un'altra nazione provare una vita diversa per semplicemente fortuna quindi magari ricordarci anche solo questo che le altre persone gli altri giovani con tutte le illusioni che la gioventù porta con sé sono solo altri giovani un po più sfigati di noi questo era l'ultimo punto che volevo toccare un'analisi diversa me ne rendo conto un'analisi che magari non tutti apprezzeranno ma un'analisi che dal punto di vista umano credo sia la parte davvero su cui maggiormente dovremmo riflettere quando capitano prodotti come io capitano che ci danno l'occasione di vivere un po sulla nostra pelle qualcosa e magari attivare determinate riflessioni andate a vedere io capitano probabilmente lo avete fatto visto che arrivo un po tardi rispetto alla valanga di recensioni che sono arrivate prima da venezia e dopo arriva nelle sale però ci tenevo a dire la mia proprio perché lo reputo un film che vale la pena supportare è tutto qui quindi ragazzi vi invito a farmi sapere la vostra e qui scrivete nei commenti e vediamo magari di far partire una discussione spero che la sezione commenti non debba diventare un porcile di gente che vuole solo spalare merda sappiate che sul video del genere probabilmente sarò molto più netto nella gestione dei commenti quindi se vedo che deve diventare un porcile mi dispiace avete sbagliato canale non è qui il posto in cui vi è concesso farlo per il resto sapete sono sempre aperto a ogni tipo di critica anzi le trovo tra le parti migliori dei commenti quando non sono becera idiozia e crudeltà ci si vede qui la prossima volta è prima di salutare un grazie è doveroso per tutti i ragazzi che scelgono di supportare questo progetto magari anche per questo mio modo di essere e per questi miei valori che condivido con alcuni di voi quindi un grande grazie ai supporter che comunque mi permettono di poter stare qui a esprimere queste opinioni grazie ragazzi lo apprezzo sempre tantissimo ci si vede la prossima volta con un contenuto differente magari qualcosa di più leggero ciao belli